eccoci ragazzi andiamo a sentire garcia perché qua la cosa si fa sempre più la tensione sale sempre di più e quindi praticamente qua qua dobbiamo uscire fuori da questo qua ci stiamo imballando quindi non voglio dire sempre le stesse parole però comunque andiamo subito a sentire perché voglio uscire sereno da questa conferenza voglio che mi dia certezze fiducia e entusiasmo e voglia di vincere ecco questo ricordate spalletti tutti i discorsi la scritta sulle pettorine uomini forti destini forti cioè ecco manca questo manca questo andiamo a sentire e vediamo andiamo a sentire certo buongiorno buongiorno sky buongiorno garcia le voglio chiedere perché domani a salerno vedremo il napoli del secondo tempo e non quello del primo ma non buttate tutto del primo tempo abbiamo preso due gol sulle due prime azioni offensive del milan non è che abbiamo fatto male male abbiamo preso due gol e dovevamo fare meglio e offensivamente abbiamo anche fatto delle cose abbiamo avuto anche la palla di 1 1 però questo è passato e adesso dobbiamo concentrarsi su su domani ovviamente quando una squadra torna dal 0 2 a quasi 3 2 all'ultimo momento ovviamente il secondo tempo è stato è stato migliore in termini di risultato certamente e penso che è sempre meglio finire su una nota positiva e speriamo che saremo su questa onda positiva domani faremo di tutto per esserci esserlo sport italia buonasera ma ecco tornando alla partita perché c'è questo divario così netto tra tra un tempo e un altro e soprattutto anche da un punto di vista tattico le chiedo se il 4 2 3 1 può essere una soluzione iniziale per la sfida contro la salernitana grazie abbiamo dimostrato non solo contro il milan che questo modulo gioco può essere utile lo sappiamo metterlo sappiamo metterlo in campo e potrebbe essere utile anche anche domani poi la cosa ovvia che dobbiamo concedere meno meno gol soprattutto perché se non sbaglio forse a parte una partita abbiamo sempre fatto gol e ne facciamo sempre nelle ultime partite quindi concentriamoci un po' di più sulla fase difensiva che può essere anche una fase difensiva di riaggressione di difendere in avanti però i ragazzi lo sanno dobbiamo impegnarsi in undici per difendere e così saremo più più soli solo solidi e se siamo più solidi saremo in grado di vincere le partite secondo me in modo più più facile gazzetta dello sport buongiorno buongiorno allora riprendo proprio da questo discorso non c'è un momento di difficoltà perché in ogni partita c'è un momento in cui si sale difendendo e ci sono anche dei momenti in cui si va indietro per difendersi l'impressione vista da fuori che i due momenti non sempre trovano in sintonia la squadra di fatti poi magari nella tre quarti si crea un'opportunità per gli avversari se è questo il problema cioè di capire i momenti in cui bisogna salire tutti e i momenti in cui invece è meglio se secondo lei è quella e poi l'ultima cosa poi rispondo a questa se no dopo non mi ricordo secondo me non è questo se se uno ha guardato di nuovo il primo tempo contro il milan abbiamo regalato tante tanti palloni all'avversario anche giocatori che di solito non lo fanno e quindi non era sempre lo stesso giocatore però quando si perdono troppi palloni uno non puoi più attaccare visto che hai perso la palla e secondo ti ti esponi di più secondo me è la chiave la chiave è il gioco con la palla che ti che ti porta a avere delle occasioni o a segnare dei gol e che non regala niente all'avversario l'altra cosa se aveva sentito si man avete fatto un programma quando rientrerà vittorio ha avuto l'accordo della società e poi io l'ho sentito per messaggio però i dottori gestiscono loro mi garantiscono che sta seguendo il programma che tutto va bene e che sarà di sarà con noi la settimana prossima però io non è che non mi interessa però io che sia vittorio di me lorenzo russo perché erano erano infortunati insieme non possono giocare quindi io mi concentro solo sui giocatori che possono giocare corriere dello sport e si prepara a corriere della sera buongiorno buongiorno sette punti dall'inter significa già essersi arresi aspettavo una domanda cattiva da sua parte quindi io sto tra i cattivi e la cosa già un po di tempo sì lei è sempre una domanda dove devo essere preparato perché è sempre offensiva diciamo la sua domanda questa offensiva no non lo so siamo siamo a pochi passi di tornare in vetta c'è sette punti dall'inter io le chiedo sette punti dall'inter lei la legge offensiva no 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 ha detto lei mica io no come no 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 offensiva significa no 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 allora je vais le dire en français vous vous posez toujours des questions qui sont negative faccio fatica a parlare l'italiano mi creierà bon allez però sono simpatico eh non lo so non lo conosco eh lo dico io andiamo fuori allez un'altra per favore grazie ma non mi ha risposto eh che devo rispondere perché visto che ho risposto male ho capito male forse allora ripeto quello che avevo già detto che siamo a un quarto del campionato quindi rimane tre quarti di campionato per tornare su non sull'inter sulle squadre che sono davanti da noi risposto bene esatto corriere della sera sono qui le chiedo di lindstrom lei a modo di vederlo tutti i giorni in allenamento come sta crescendo come come valuta il suo percorso di inserimento e se potrà nelle prossime gare trovare più spazio spazio ce l'ha avuto un po' rispondo quello che ho già risposto che quando il giocatore è esterno d'attacco deve avere delle statistiche deve essere decisivo assist o gol e per il momento per levare il posto a viscia e a matteo è un po' complicato per gli altri sapendo che non possono giocare tutte le partite 90 minuti parlo di viscia e matteo quindi quando entra un altro al suo posto anche con poco poco tempo di gioco deve dimostrare che è che capace di essere decisivo e non parlo solo per per gli esper per tutti quelli che entrano in questi questi situazioni qua poi c'è la parte offensiva e chiedo a questi giocatori di essere decisivo però c'è anche la mano difensiva perché quando vinciamo che entra uno esterno d'attacco deve anche dare una grande mano alla squadra visto che è fresco e su questo penso che gli esperti sta migliorando tanto Repubblica e si prepara il mattino Salve buonasera Buonasera Volevo chiederle finora c'è stata una differenza abbastanza netta nei risultati in trasferta rispetto a quelli in casa lei che spiegazione si è data di questo? Nessuna Allora le faccio un'altra domanda Può entrarci il fatto che in trasferta andate in ritiro prima della partita in casa o no? Ah no non c'entra niente questa cosa Sono sicuro Li dico una cosa Con il Covid nessuno non andava più in ritiro E purtroppo c'è stato uno che ha vinto lo Scudetto Uno che era secondo in classifica Ha fatto una nata pazzesca Io sono anche addirittura andato in semifinale di Champions Non potendo andare mai in ritiro Quindi questa cosa non c'entra niente Io ho dei giocatori responsabili e professionisti Quindi Il mattino e si pervara cronache di Napoli Sì buon pomeriggio Buon pomeriggio Nei confronti di Racmani e Elmas Mario Rui Che lei ha sostituito nell'intervento di Napoli-Milano Ha avuto un atteggiamento differente in questa settimana in termini di dialogo E poi le chiedo del derby di domani le insidie Questo ce la fa a ricordarsene tutte e due Eh speriamo Ma non è una sanzione dell'allenatore quando sostituisce un giocatore all'intervallo È sempre per migliorare la squadra Quindi lo sanno i giocatori C'è chi è già uscito all'intervallo Tante volte nella mia carriera Che ha anche iniziato la partita dopo Quindi non è un problema Potevo fare altre scelte Capisco che quando perdi 0-2 in casa E che cambi due difensori Sembra un po' particolare Però la gara ha dimostrato che Era la scelta giusta Cambiare modulo gioco Mettere Cio Lito davanti E essere più Avere dei giocatori differenti In difesa sul secondo tempo Poi Grazie per la domanda Perché domani è Salernitana a Napoli E abbiamo parlato tanto dell'ultima partita Che mi sembra non possiamo rigiocarla Questa partita Domani Ritroverò Persone E soprattutto una Morgan De Santis Che apprezzo Veramente Molto molto È stato uno dei pilastri Quando allenavo Del mio spogliatoio Della mia squadra Quando allenavo a Roma Ho sempre saputo E il futuro lo dimostrerà Che sarà Un grande dirigente Secondo me Al suo posto Come direttore sportivo Poteva anche fare tante cose In un altro posto Dei dirigenti Quindi domani Durante 90 minuti Saremmo avversari Però prima e dopo Sarà di nuovo Un grande piacere Rivedere Morgan Che non solo era Un leader in campo Un trascinatore Però anche Veramente un uomo per bene E quindi Sarà solo un piacere rivederlo Poi Poi ritroverò un po' di giocatori Che conosciamo noi in Francia Boulardia O Coulibaly Che ha giocato a Angers O a Bastiat A Bradaric Che ha giocato a Lilla Una squadra Dove conosciamo Alcuni giocatori Perché hanno giocato In Francia Poi La cosa più importante Perché io non lo sapevo Pensavo In modo ingenuo Che a Quanti chilometri sono? 80 forse? 50 Pensavo che Di trovare lì Visto che siamo Nella stessa Quasi la stessa regione Un Una Che ne so Un rispetto mutuale O qualcosa del genere Un clima più disteso Sì sì E poi ho saputo Ho saputo che non è il caso Allora Visto Visto il momento che stiamo vivendo Nel mondo Diciamo Domani Rivalità Ok ci può stare Però spero che andrà bene Tra i tifosi Prima di tutto E poi non è la guerra La guerra ne abbiamo abbastanza Quindi Solo questo Spero che ci sarà Sostegno della sua propria squadra Però Odio no Perché l'odio non porta da nessuna parte Lo stiamo vedendo Ogni giorno Solo questo Cronache di Napoli Si prepara Canale 8 Salve Buonasera Lunedì lei è stata in visita Al Morales di Maradona Una curiosità Come è stato accolto E la scelta è per Sentirsi ancora più napoletano No ma io mi trovo Di meglio in meglio In questa città Perché già l'ho detto Quando c'è stato un po' di tempesta E ci siamo parlati qua Io ho sempre detto la verità Che quando vado in città C'è tanta gente che mi incoraggia Che ovviamente le vedo Tifosissimi della loro squadra E quindi Cerco solo di avere una vita normale Anche se non è possibile Per Per noi Giocatori allenatori In qualsiasi città di calcio Un po' Un po' complicato Diciamo Però era anche L'anniversario Del Del grande Diego E visto che non c'era Non c'ero Andato Sono andato E quindi È anche molto bello Vedere Come le chiamate voi? I scugnizi Questi che giocano a calcio Per strada E c'erano tanti E la bellezza Del calcio E della vita E questo Sono i bambini Che saranno al nostro posto Nel futuro Canale 8 Buon poveriggio Grazie Tornando alla partita di domani Lei ha sottolineato prima Come sia importante Non incassare gol Però Probabilmente Presumibilmente Considerando che si trova Di fronte L'ultima in classifica È possibile Che domani Si trovi Di fronte Una squadra Che farà Molto ostruzionismo Insomma Cercando di portare a casa Un risultato positivo Il Napoli È sesto Nella classifica Realizzativa Tra le prime Del campionato italiano Quindi è evidente Che debba essere Un po' migliorata Questa fase realizzativa Lei pensa che Insomma Sia un problema Superabile Ci sta lavorando E comunque Come vede Da questo punto di vista La situazione Grazie No ma non sarà Una gara facile Perché è un derby Prima di tutto Perché loro Hanno bisogno Di punti Però Noi Ovviamente C'è solo Un risultato positivo A ottenere domani È la vittoria lì Quindi dobbiamo Mettere tutto in campo Dobbiamo dimostrare O mettere in campo La migliore versione Del Napoli Sappiamo Che cosa Dobbiamo fare E poi Ci sono alcuni Alcuni parametri Della squadra De la Sanitana Che vanno Che vanno gestito E lavoriamo Su Questa cosa Radio Buongiorno mister Buongiorno Buongiorno mister Le ha detto Che Siamo un terzo Del cammino Rispetto a quello Che ha fatto Qui a Napoli Le volevo chiedere Quanto è soddisfatto Di questo cammino Fatto Fino ad oggi E se c'è qualche aspetto Del gioco Che la preoccupa Che vuole assolutamente Migliorare Possiamo sempre migliorare In tutti gli aspetti Però siamo una squadra forte Con giocatori forti Questo Noi all'interno Non lo dobbiamo dimenticare E quindi In qualsiasi campo Dobbiamo scendere in campo Con ambizione Fiducia Personalità E anche coraggio A volte Perché c'è da lotare Le partite Le partite Non vanno vinte Se non lotti E se giochi solo con la palla E non senza Senza palla Quindi Facciamo in modo Di lavorare Sulle cose Che dobbiamo migliorare Una di quelle È forse Iniziare meglio Le partite Anche se Contro la Lazio Per esempio Abbiamo iniziato benissimo Però Un inizio Efficace Bello Buono È anche un inizio Dove trovi Trovi il vantaggio Nella gara Che sta Che sta giocando E secondo me Dobbiamo migliorare Questa cosa Info Napoli 24 Buongiorno mister Buongiorno Volevo chiedere Se nell'ambito Delle rotazioni Che lei normalmente fa È previsto anche Il ruolo del portiere Oppure ritiene Che sia Meretti Il titolare E Gollini La riserva Grazie Ma le cose Sono veramente chiare Alex Meretti È il numero uno E Pierluigi Gollini È il numero due Però poi Devo dire Che a parte Che è stato infortunato E che ha mancato Un paio Di settimane Di allenamento Abbiamo dovuto Gestire Pierluigi Da quando sono arrivato Sono veramente contentissimo Che i nostri dirigenti Si sono riusciti A fare in modo Che Pierluigi Sia con noi Ancora quest'anno Perché abbiamo Abbiamo tre Tre portieri forti Perché Nikita Si sta anche Contini Ci sta anche lui Allenando benissimo Il piccolo Hubert Idasiak Lui è ancora giovane Però è Una risorsa importante Quindi Pierluigi Si meriterebbe Di giocare Delle partite Vediamo se C'è l'opportunità Però per il momento Alex è tornato A grandi livelli E poi Non è che giochiamo Così ogni tre giorni Non abbiamo giocato Questa settimana Quindi non è Non è il caso Però sono contento Di poter dormire Su Le due mie Due orecchie Si dice in francese Non so se da voi Si dice questa cosa qua Un cuscino così E un altro così No? Tra due cuscini Grazie E quindi Sono tranquillo Di avere Grandi Grandi portieri Grazie a tutti Grazie Buah Che dire Mi ha convinto Non mi ha convinto No Però Vabbè Comunque La necessità Di fare Il 4 2 3 1 Per Sopperire Alle lacune Che Ci possono essere Nel 4 3 3 E lui dice Piano piano Sì piano piano Andiamo piano piano E poi una cosa che Anche stavolta Ha dato la colpa Ai calciatori Si perdono le palle E queste Se si perdono Più facile Che ci facciano le gol Concedere Meno gol No I gol Non li dobbiamo Proprio concedere No meno gol I gol Non li dobbiamo concedere E' ben diverso Poi La domanda Offensiva Cioè Dai Forse Non ho Forse il termine Non l'ha capito Cosa vuol dire Offensivo Quindi Lasciamogli Questa Questa cosa qua E Poi Lindstrom Ha fatto poco L'hai fatto giocare poco Ha fatto poco E quindi Non ti può dare mai Cioè Diciamo che La possibilità di vedere Se Il suo vero valore Cioè Fagli fare almeno Un tempo Non dico tutta la partita Ma almeno un tempo No Entra nei primi Negli ultimi 10 minuti Negli ultimi 5 minuti Nell'ultimo minuto Cioè Che ti fa vedere Che ti può far vedere Cioè Quindi questa cosa qua Cosa così Poi Vabbè Poi il fatto Delle partite fuori casa In casa Il fatto Che ci sia un ritire Quindi la squadra È più unita E lui dice No Nel covid C'è stato Chi ha vinto Chi è arrivato Al secondo posto Cioè Questa cosa A parte che il covid È stata una forzatura No Ma poi No Un ciazzicco poveri Rodin Rodin un ciazzicco Comunque Poi è stato Al Maradona Al Morales Di Maradona Ha visto gli spegnizi Giocare al calcio Palloni Mezzo alla strada Diciamo se Pesso Ma vabbè Pur se ti incontro io In strada Ti dico Mister Mi raccomando Forza Napoli Andiamo avanti Forza mister Cioè io ti incoraggio Pure io ti incoraggio E ci mancherebbe altro E pure adesso ti incoraggio Vai mister Facci vedere Cosa Che sei capace Facci vedere E E dai Comunque Non mi voglio dilungare troppo Però Sì e no Sì e no Dai Insomma Prova a dire Perché domani C'è un solo risultato Dobbiamo vincere È già questo Dai Qualche Qualche piccolo Miglioramento Anche in conferenze Però quella cosa di Offensiva Vabbè Non ritorniamoci su Comunque ragazzi Come al solito Dico una sola cosa Commentate Iscrivetevi al canale Mettete like E condividete Vabbè E forza Napoli Domani voglio Undici leoni Incazzati Undici leoni incazzati Vai Forza Napoli Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.